Un cordiale saluto, ben ritrovati insieme all'appuntamento con il nostro notiziario dedicato all'Abruzzo in apertura. La cronaca con un tragico schianto mortale avvenuto domenica pomeriggio. Una donna alla guida di un'auto è finita contro un muro ed è morta praticamente sul colpo. Si tratta di una 47enne di origine straniera. Vediamo. Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica ad Avezzano, in Via Nuova. Un terribile schianto, infatti, ha causato la morte di una donna e il ferimento di un'altra. In base a una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, una Fiat Idea, guidata da una donna di 47 anni di origini straniere, Anan Uifak, è andata a schiantarsi violentemente contro un muro. La violenza dell'impatto è stata tale che, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la conducente non c'è stato nulla da fare. Nell'auto viaggiava anche una passeggera, anch'essa di origini straniere, di 32 anni. La passeggera è rimasta ferita nell'incidente ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari intervenuti sul luogo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale grazie all'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Avezzano, guidati dal comandante Luca Montanari, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e non si esclude nessuna ipotesi. Al momento gli inquirenti stanno vagliando tutte le possibili circostanze che potrebbero aver portato la conducente purtroppo a perdere il controllo del veicolo. Una lunga scia di sangue sulle strade abruzzesi. Torniamo a parlare dell'incidente avvenuto ieri a Villa Rosa di Martinsicuro. Il motociclista è rimasto gravemente ferito. È un 53enne di Castel di Lama, aveva perso conoscenza e è stato rianimato sul posto. Ora si trova in prognosi riservata al Mazzini di Teramo. È in prognosi riservata il Centauro, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto domenica mattina lungo la statale Adriatica tra Martinsicuro e Villa Rosa. Si tratta di un 53enne di Castel di Lama, che mentre percorreva la SS16 in sella alla sua moto Ducati, diretto a San Benedetto, ha impattato violentemente contro una lancia delta che procedeva in direzione opposta. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Alba Adriatica, ma a quanto pare l'auto stava svolgendo una sorta di inversione adù all'altezza di Via delle Messi. Il motociclista, dopo essere finito contro il guardrail, è stato letteralmente catapultato nel fossato sottostante, un volo di circa 3 metri terminato tra alcuni rami di alberi potati di recente. Il 53enne, residente a Castel di Lama, ha perso conoscenza ed è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del 118 di Giulia Nova. Vista la gravità delle sue condizioni per il trasferimento all'ospedale Mazzini di Teramo, è stata allertata anche l'ambulanza. Praticamente illeso ma sotto shock, il conducente dell'auto, un turista 57enne, residente a Taranto, che non ha avuto necessità di cura del personale del 118. Sul posto anche la Croce Verde di Villa Rosa e i vigili del fuoco di Nereto che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, attualmente sotto sequestro e poi collaborato con il personale sanitario per recuperare il motociclista infortunato. Ad occuparsi dei rilievi dell'incidente i carabinieri di Martinsicuro che stanno portando avanti gli accertamenti necessari per comprendere la dinamica e le responsabilità del sinistro. L'alcol test sul conducente dell'auto è risultato comunque negativo. Sul posto anche la polizia che si è occupata della viabilità, bloccando per circa un'ora il traffico lungo la statale 16. Stretta sull'evasione da e-commerce, la Guardia di Finanza scopre 300 milioni di IVA sottratti alle rari. Una maxi operazione da parte delle fiamme gialle di Pescara. Vediamo. Oltre 850 operatori economici, per lo più stranieri, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Pescara per aver effettuato, senza dichiararlo al fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati attraverso i canali dei colossi del marketplace. La stretta sull'evasione nell'e-commerce ha fatto emergere un giro d'affari milionario, con un business che supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultato all'erario, con quasi 300 milioni di IVA evasa e non dichiarata. L'inchiesta delle fiamme gialle di Pescara si è incentrata sull'analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori, posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-commerce. Dall'attività investigativa è emerso che gli ordini effettuati su note piattaforme web riguardavano principalmente merci tessili ed elettroniche pervenivano ad una vasta rete mondiale di imprenditori che, omettendo di registrarsi ai fini IVA o dichiarando un volume di vendite sul territorio italiano inferiore a quello reale, massimizzavano i profitti, in concorrenza sleale con gli altri operatori di mercato. Questi, nella quasi totalità dei casi, si sono rapidamente attivati per effettuare versamenti in favore dell'erario italiano, in modo da regolarizzare la loro posizione. Gli accertamenti proseguiranno con gli interventi di verifica fiscale per il recupero a tassazione delle somme milionarie vase e non dichiarate al fisco. Altro blitz della finanza, stavolta al Carnevale estivo di Alba Adriatica, è andato in scena venerdì sera. Un ristorante è stato sanzionato per aver impiegato dei lavoratori in nero mentre un locale somministrava cocktail ai minorenni. Ce ne parla Matteo Porfiri. Blitz della Guardia di Finanza di Giulianova e Roseto degli Abruzzi venerdì sera durante il Carnevale estivo di Alba Adriatica. Sottoposti a controllo molti dei turisti presenti in zona in occasione della caratteristica manifestazione estiva, nonché bar, ristoranti e stabilimenti balneari operanti sulla fascia costiera albense. Molteplici gli illeciti rilevati nel corso delle varie ispezioni. Un noto ristorante, ad esempio, è stato sanzionato per aver impiegato senza assunzione tre giovani addetti stranieri, tra cui anche un minorenne. Per l'impresa coinvolta è scattata l'immediata segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo per l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività e per la contestazione delle relative sanzioni amministrative. Inoltre, secondo le leggi vigenti, la stessa attività dovrà assumere lavoratori in nero per un minimo di tre mesi. Diverse le irregolarità riscontrate in materia di memorizzazione dei corrispettivi contestate a bar e ristoranti ancora resti ad osservare i relativi obblighi di legge sugli scontrini fiscali. Anche in questo caso, le violazioni appurate verranno prontamente segnalate all'Agenzia delle Entrate di Teramo. I controlli sono proseguiti con l'approssimarsi della notte anche nei pressi e all'interno dei locali frequentati dai giovanissimi e anche minorenni. In un noto stabilimento balneare, gli agenti hanno accertato la vendita e somministrazione da parte dell'esercente di bevande alcoliche ai minorenni. Non la solita birra, bensì cocktail micidiali caratterizzati da un tasso alcolico superiore anche al 40%. Il titolare dell'esercizio, sanzionato per i molteplici casi riscontrati al momento dell'accesso, verrà segnalato alla Prefettura di Teramo per i provvedimenti sanzionatori che, in caso di recidiva, possono annoverare anche la sospensione dell'attività. I controlli hanno riguardato anche il contrasto all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In occasione di tale attività, svolta con l'ausilio dell'infallibile fiuto delle cane antidroga a Didero in servizio presso la compagnia di Giuranova, sono state sottoposte a sequestro svariate dosi di hashish nei confronti di quattro giovani assuntori. Gli stessi saranno segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge. I controlli della Guardia di Finanza proseguiranno comunque nel corso dell'intera estate. E chiudiamo con il calcio e la serie di volti nuovi in casa Teramo, nello staff di Mister Pomante, il punto di Giussi Cingoli. Dopo il riposo domenicale, in mattinata i Biancorossi sono tornati ad allenarsi per una sola seduta al Besso di San Nicolò, iniziando la terza settimana di preparazione al campionato di Serie D. Nel raduno del Diavolo, da circa una settimana, sono arrivate dal notaresco due nuove figure, con l'obiettivo di potenziare lo staff tecnico per la prossima stagione. Marco Baldacci è il nuovo match analyst della squadra guidata dal tecnico Pomante. Lo stesso ha avuto esperienze in precedenza da collaboratore tecnico con la Folgore del Finocuri e da match analyst l'anno passato con il notaresco. Diplomato UEFA ha superato l'esame presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Le sue prime dichiarazioni. Ringrazio il mister Pomante per avermi cercato e la società per aver concretizzato questa grande opportunità lavorativa. La mia funzione sarà quella di aiutare lo staff tecnico e calciatori attraverso il supporto video, consentendo la possibilità di condurre analisi più approfondite su partite e singoli allenamenti. Accanto al preparatore atletico Francesco Petrarca, a fornire un prezioso supporto e operativo il terramano Davide Salvi, con esperienze pregresse nelle giovanili del San Nicolò e l'ultimo quinquennio vissuto in via notaresco. Le sue prime parole. Dire che sono contento è poco. L'emozione è tangibile, viste le mie origini. Sono un gran tifoso del Teramo, continua Salvi, grazie alla passione trasmessa da mio padre dai tempi del vecchio comunale, con una tradizione che ho sempre cercato di conservare negli anni. Fungerò da collaboratore del prof Petrarca, sia nella fase pratica che in quella ex post di analisi dei dati, al fine di curare ogni minimo dettaglio. Potrò solo apprendere dalla professionalità incontrata in questo staff, con l'auspicio di poter essere utile alla causa. A giorni prenderà il via la campagna abbonamenti del Teramo Calcio per il prossimo campionato di Serie D. Non ci sono aggiornamenti per questa edizione del TGA, è tutto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.